La nuova maglia del Napoli L'occhio di tigre, una pantera, una pantera, una tigre, utilizzata, il primo piano Eccola Il vento va al vento ovviamente Ed ecco qua in anteprima la Combat 2019 Il vento che fa le pitte E con una bella donna rende ancora più adrenalinica questa presentazione Ora qualche istante per poter scoprire Eccola qua, completa e finita, evviva Qua dovrebbe scattare l'applauso Combat 2019, la nuova maglia del Napoli presentata in anteprima mondiale Possiamo riprendere? Certo Dove ci sanno mettere? Giù nello stadio Vi mando un messaggino adesso Baci, abbracci Grazie 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 Grazie